Buongiorno, continuiamo a dialogare di sinistra storica, oggi in modo particolare parliamo della politica economica della sinistra storica, è una politica economica più espansiva, meno attenta alla questione del pareggio del bilancio o rigore finanziario, ma al contrario aperta a nuovi settori economici, settori industriali, a una politica finanziaria anche più aperta, più incentrata anche sulla questione della spesa e tesa a soddisfare le esigenze di nuovi settori e bisogni di una parte del paese che si era sentita soffocata, compressa di uno sviluppo che durante gli anni della destra storica non c'era stato, gli obiettivi erano diversi, gli obiettivi erano stati diversi. Diciamo pure che la politica economica della sinistra storica verte su un rinnovamento importante di alcuni settori, certo l'agricoltura, ma soprattutto lo sviluppo industriale e un cambiamento dal liberismo che c'era durante la destra storica al protezionismo che poi ci sarà con la sinistra. Non è forse eccessivo dire che la destra in parte era caduta anche per un malcontento della sua politica economica, la destra aveva realizzato una politica economica così non espansiva, se il tema era controllare il bilancio a tutti i costi e soprattutto, certo c'erano delle problematiche di bilancio, però a determinati settori erano stati compressi, soffocati, non avevano visto lo sviluppo che avrebbero voluto avere. Certo non dimentichiamoci che in questi anni assistiamo a uno sviluppo industriale in tutto quello che è l'Europa occidentale o il nord Europa in qualche modo e quindi anche l'Italia si sente in qualche modo coinvolta e quindi la destra storica era parte caduta anche per un malcontento verso la politica economica. Sappiamo che due provvedimenti fondamentali che indicano questo cambiamento dei tempi è l'abolizione della tassa sul macinato, infatti qui la questione non è più solo reperire soldi anche per tenere sotto controllo il bilancio, ma anche come segno verso città più bassi, di un'attenzione verso esigenze di giustizia sociale che comunque c'erano, ma soprattutto un aumento della spesa pubblica, verso opere pubbliche, verso una politica finanziaria più tesa alla spesa, più espansiva. Certo questo porterà un disavanzo, questo naturalmente porterà un disavanzo. Ci sarà un certo sviluppo dell'agricoltura, certo uno sviluppo dell'agricoltura che non modificherà i rapporti di proprietà, i rapporti di proprietà né caratterizzerà significativi progressi, certo i miglioramenti riguarderanno soprattutto le zone più progredite che si avanteggeranno del protezionismo, in particolar modo poi le terre della pianura lombarda, le culture specializzate del sud, gli olivi, gli agrumi, mentre nel resto d'Italia diciamo che l'agricoltura subì minori cambiamenti sia in termini sia nei rapporti di proprietà, sia nella sua situazione complessiva. Certo in questo periodo difficile sarà affrontare la crisi agraria, quella crisi che dagli anni 70 in poi, da 71 in poi si era sviluppata in tutto il mondo, non era solo un fenomeno italiano, quella crisi economica che era una crisi congiunturale legata alle speculazioni nata dalla guerra franco-prussiana dove la Francia aveva perso e soprattutto una crisi strutturale determinata da una sovrapproduzione sia del settore agricolo, in anni 71 in poi c'era una crisi di sovrapproduzione perché le produzioni che arrivano dall'Argentina, dall'America Latina, terminate dall'America stessa, sono più economiche delle produzioni che avvengono in Europa, quindi una crisi di sovrapproduzione e questa crisi di sovrapproduzione strutturale avverrà anche per quanto riguarda le ferrovie. Questa crisi sarà una di quelle cose che determinerà poi l'imperialismo, cioè la ricerca, l'occupazione di nuovi mercati per collocare la parte di certi paesi, di certe economie più avanzate, più capitalistiche per collocare i propri prodotti in nuovi mercati, vista la sovrapproduzione e visto il fatto che il mercato europeo è per gran parte già saturo. Questa crisi determina un abbassamento inevitabile dei prezzi, quindi anche un calo della produzione, che prima investì i cereali e poi un po' tutta la produzione. Certo non mancarono gli effetti sociali, una confettualità, calano i prezzi e cala la produzione, calano i posti di lavoro, una confettualità delle campagne e questi sono poi anche gli anni dell'incremento delle grandi migrazioni dentro l'Italia, ma anche verso il resto del mondo, nell'America Latina, nell'America del Nord, i grandi processi migratori sono di questi anni, sono degli anni 80 sostanzialmente, sono di questi anni, sono fino anni 70, anni 80 insomma. La crisi agraria fu certamente un fattore di ritardo nel decollo industriale, ma nel tempo breve, nel tempo immediato, ma anche lo favorì, perché rese evidente il fatto che bisognava puntare su altri settori, non in termini immediati, ma certo in termini di ciclo medio, medio-lungo. E non dimentichiamoci che per gran parte la destra aveva puntato molto, molto sull'agricoltura, sul settore agricolo, lo stesso Cavour con le risale del Vercellese, allora era il settore più fondamentale nell'economia italiana, anche al Nord per certi diversi, un settore fondamentale. Un aspetto fondamentale della politica economica della sinistra rispetto alla destra è stato quello del protezionismo. La destra era liberista, la sinistra invece era protezionista e questo anche è l'insegna di un nuovo ruolo, ha un nuovo ruolo dello Stato nell'economia. Certo anche la sinistra era contraria a un intervento, non eravamo, non era una sinistra socialista, era contraria a un intervento, a una presenza diretta dello Stato in economia, però voleva una protezione delle proprie industrie, soprattutto le giovani industrie. Le giovani industrie che senza un protezionismo non ce l'avrebbero fatta a competere con le grandi industrie più avanzate degli altri paesi europei, la Bretagna, la Francia. L'idea che il liberismo non era sempre stata la cosa, la soluzione migliore è emersa anche dall'esempio di altri paesi, per certi versi l'esempio della Germania prima, ma anche in fondo dell'Italia prima, negli anni della destra storica. Il liberismo non aveva sempre fatto bene, ecco per cui emergeva l'esigenza di cambiare e cambiare prospettiva, mettere in campo quello che è chiamato il protezionismo. Un protezionismo che era assolutamente voluto dai giovani industriali dell'epoca e anche da una serie di proprietari terrieri che temevano la crisi, la crisi agraria che si prenderà corpo negli anni 80, negli anni 80 dell'800, quindi cercato dalla nuova industria, cercato dagli agricoltori e dai proprietari terrieri che volevano difendersi dalla crisi, dalla crisi di sovrapproduzione o dalla crisi causata dalla competizione che veniva da prodotti più bassi, da prodotti oppressi più bassi che arrivavano da paesi dell'America Latina, dell'America di altri posti. Certo questa fu positiva in un certo momento perché salvò una serie di posti di lavoro, certo per i consumatori i prezzi aumentarono e comunque si varò quella che è stata chiamata la nuova tariffa generale, una tariffa generale che difendeva settori dell'economia italiana, dell'industria in particolare, settori dell'economia italiana dalla concorrenza straniera. Va detto che in questo periodo il protezionismo diventerà una politica diffusa nel resto d'Europa, sarà solo una questione italiana, la famosa tariffa dell'87 che abbandonava la politica libero scambista della destra storica degli anni 60 e degli anni 70, è stata anche diversa la politica di Cavour e creava un blocco economico protetto, fatto di industrie, di grandi proprietari terrieri protetti dallo Stato, un po' qui sì sul modello della Germania di Bismarck, quello che poi sarà il secondo Reich, la Germania è il secondo impero creato da Bismarck. Questo ebbe effetti vari, effetti conseguenze negative nel senso che aumentarono gli squilibri tra le zone più forti, tra certe zone del paese e altre zone, tra le zone più forti e le zone più deboli, le zone che erano state avvantaggiate da questa protezione e le zone che invece non erano state avvantaggiate. Abbiamo detto anche prima che in termini medio-lunghi probabilmente aiutò lo sviluppo industriale, in termini medio-lunghi, certo che in termini brevi un certo tipo di prezzi aumentarono perché la concorrenza cadde e quindi un certo tipo di prodotti aumentarono di prezzo e quindi per certi versi ci furono anche dei svantaggi per i consumatori, almeno nel tempo breve. Poi soprattutto si creò una guerra doganale, una celebre e famosa guerra doganale con la Francia, con la Francia la quale era un elemento di concorrenza su alcuni prodotti fondamentali con l'Italia, ma non era solo una concorrenza economica, poi parte anche una concorrenza politica e questo regime di concorrenza fu steso in agricoltura a diversi settori, ma anche in agricoltura, non solo l'industria, ai cereali e naturalmente il prezzo del grano aumentò. addirittura si triplicò, mentre per chi doveva comprare il grano, anche per ceti più umidi, il prezzo si aumentò e quindi ci fu un rialzo dei prezzi del cereali e le aziende si avvantaggiarono naturalmente, ma i consumatori, come abbiamo detto prima, non si avvantaggiarono. Ripeto, in un primo momento il successo fu di medio periodo perché in un primo momento si evidenziarono anche difficoltà, non poche difficoltà e in particolar modo l'agricoltura meridionale poi fu colpita in alcuni suoi settori più moderni, che erano legati alle esportazioni, più specializzati. Nell'agricoltura meridionale aveva settori specializzati dove, penso gli agrumi, che esportava e naturalmente le esportazioni furono colpite, perché avvantaggiandoci noi, mettendo noi un tipo di leggi protezioniste, ovviamente le mettivano anche gli altri paesi. La scelta protezionistica fu per l'Italia, però tuttavia molti economici sostengono un passaggio necessario per il decollo industriale, le giovani industrie non avrebbero retto il confronto e nel medio e lungo periodo fu una condizione necessaria per lo sviluppo industriale del paese. Certo, innanzitutto della siderurgia, certo per motivi militari, ma siderurgia non è solo naturalmente motivi minerali. Meno protezioni ci fu per la meccanica, poi vediamo che in futuro arriverà anche la meccanica. Ecco, il protezionismo non sarà, non sarà, caratterizzerà questi anni, il protezionismo e la guerra e la guerra dogonale con la Francia, caratterizzano questi nuovi anni di politica economica della sinistra, certamente per certi versi più espansiva rispetto a quella della destra. Io mi fermo qua, vi ringrazio per avermi seguito, vi aspetto al prossimo incontro sulla politica estera e sulla politica coloniale della sinistra storica. Grazie e arrivederci, alla prossima volta.